Francesco Totti e Noemi Bocchi sono al centro di un vortice di gossip che ha scosso il mondo dello spettacolo. Il capitano della Roma è stato paparazzato in compagnia della giornalista sportiva Maria Luisa Giacobelli, che ha confermato di avere una relazione con lui, all'insaputa di Noemi. Questo scoop ha scatenato una serie di reazioni, culminate in un viaggio a Miami della coppia, dove sono stati immortalati con visi cupi e musi lunghi. La tensione tra i due è palpabile, come dimostrano le foto diffuse sui social che mostrano un'atmosfera tesa durante la cena con amici. Noemi ha reagito duramente ai gossip, cancellando foto con Totti e limitando i commenti per evitare giudizi. Una fonte ha rivelato che la coppia è in crisi da tempo a causa della gelosia e del controllo eccessivo di lei. La situazione sembra essere arrivata al limite, con la rivelazione della Giacobelli, che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Resta da vedere se Totti e Noemi riusciranno a superare questa crisi, o se si diranno addio. La tensione è alle stelle e il futuro della coppia è incerto. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questo. Grazie a tutti.